Buon pomeriggio amici, buon inizio della settimana santa. Nella puntata odierna del leggiamo le poesie ai tempi del coronavirus presenterò con grande affetto due testi della nostra amica Maria Teresa Tedde, detta fata turchina, due poesie tratte dal suo ultimo libro senza scudo. Onda. Non so se l'uomo viva tormenti di amore, se fissi l'orizzonte per ore, se si perda della fiamma d'una candela che si spegne, se abbracci il suo cane per sentirsi meno solo, se balico il cuscino. Dance me, tu vient of love. Ho imparato a dare calci a ricordi impertinenti, a stringere parole fradenti di smeraldo, a dare del testardo al profumo di te lontano. Ma in fondo, se ancora amo e scruto l'orizzonte, non c'è onda che non legga righe scritte nel cuore, mentre gocciola il sudore di un bacio e risvegliato. Eccola, eccola la mia Sardegna, così arsa e poco popolata, con le sue rocce di granito rosa, con le sue pecore libere sotto il sole, con i suoi cartelli di strada deformata, i suoi fichi d'India rossi di passione, con la sua canzone solitaria, con i suoi murretti a secco e i nuraghi di civiltà antiche ancora da decifrare, col suo mare da lasciare senza fiato, col bestiame a volte rubato, coi residui di valente, e niente niente è tanto da me amato, come questa mia terra solitaria, orgogliosa, granitica e bella. Saluto con affetto Maria Teresa Tedde, ci manchi tantissimo, e noi tutti ci vediamo di nuovo domani per la prossima puntata di Leggiamo le poesie ai tempi del coronavirus. Buon pomeriggio!